Io sono io, Devil Pirata, a quanto pare, sono il pirata perché... perché sono il pirata. Siamo a giugno, no? Siamo già ai 4 ormai, però visto che il mese scorso ho fatto un video come questo, facciamolo anche questo mese. E cioè, guardiamo i video, i videogiochi che escono questo mese, magari guardiamo qualche trailer, guardiamo un po' di informazioni sui vari giochi, vediamo quali mi interessano e quali no. Enfasi sulla parola interessano, che non vuol dire che siano belli o brutti. Interessano, voglio prenderli o non voglio prenderli. Però, considerando ciò che avevo detto su Biomutant e ciò che è come lo stato in cui è uscito, prima di iniziare con la lista, magari lasciate un like, lasciate un commentino che aiuta molto con l'algoritmo di YouTube. Cerchiamo di arrivare a questi 100 followers o sub, come cazzo si dice su YouTube, che almeno cambio il link del mio canale che va schifo. Una volta raggiunti 100, posso cambiare il link e renderlo un link normale, tipo youtube.com slash DaveDark, invece di slash sta ceppa, no? Cioè, ci sono un sacco di numeri, robe strane. Quindi lasciate un sub, quello che è, lasciate un like e buona, dai, si può iniziare. Il primo gioco che dovrebbe, è già uscito in realtà, dovrebbe essere uscito il primo giugno, esatto, è Grifflands, e cioè un gioco di carte, roguelite, GDR, non so proprio cosa sia, quindi immagino che vedremo un trailer, vediamo cosa succede in questo gioco. E poi vediamo, posso dire già ora che non mi interessa, almeno non credo, non lo so, vediamo. Perché nonostante tutto c'era quel gioco che era tipo un RPG, però con le carte, e magari i creatori sono pure gli stessi, vediamo. No, però che è entertainment, non credo. Don't Starve, ok, lo stile, lo stile di, di quelli che hanno fatto Don't Starve alla fine. Però no, sto pensando a un altro gioco di cui ho dimenticato il nome, anche questo era un GDR che però si basava sulle carte, era molto carino, eh. Quindi vediamo il trailer, chi lo sa, magari, magari è un giocone. Vediamo un po'. Com'è il volume? Va bene. Clay Entertainment. Anche il personaggio mi ricorda un sacco quello dell'altro gioco, quel GDR con le carte. Era un GDR a turni, in cui le carte avevano molto peso. Era anche molto random, però era divertente, era carino. Oh my god! Sì, vabbè, ma non mi interessano i video. Io voglio vedere il gioco, non me ne frega un cazzo di trailer, di questo tipo di trailer. Ok, questo credo che sia il gioco vero e proprio. No, forse no. Ok, forse. Forse lo è, non lo so. Ah! Wow, è un GDR in cui anche le conversazioni sono fatte nello stile di quel gioco di cui parlavo prima. Ok, con le carte imposti le azioni del tuo personaggio, sia nei discorsi che nei combattimenti, a quanto pare. Una donna o un uomo? Credo che sia una donna. Ok, il gioco... Immagino che i compagni sono stati controllati dalla CPU, no? Oh, non so. Non so perché in questo trailer mischiano il gameplay con quello che credo sia... Siano cutscene, forse, eh. Magari era tutto gameplay. Anche perché è estremamente positiva tutte le valutazioni. Vediamo una recensione. Gran gioco, speriamo, è una traduzione italiana. C'è alcune idee buone, ma c'è un problema. Ha risultato abbastanza per me. Comparso con altri gioco, come Slade... Ah, Slade Aspire, ecco come si chiamava. Non c'è un match. Oh, f***o. Quindi Slade Aspire, questo qui dice che è molto meglio. Il migliore gioco di game di Steam, periodo... Non mi preoccupino. Allora, la casa è buona. Credo... Perché in realtà anche Don't Starve pensavo fosse un gioco acclamato da tutti. E invece poi ho letto recensioni che dicevano, no, una palla... Non l'ho mai giocato, quindi non lo so. Però ci sono recensioni miste, in realtà. The Flosher Metal of the Griflands is a big maybe for me. Going from being super engaging to being a total dud. So let me open up some of my thoughts about the game, since it might be a good fit for you. Hardstyle, Dual Deck System... Align Morality System, the Tooltips need work. Story and... A quanto pare è corto. Levati, che vuoi te? This is actually a big minus. But for some it might be a can icing on the cake. Griflands has 3 characters with their own branching stories. To complete... E c'è story? E... E... Superlong story... Ah, superlong story. Quindi è lunga, non è corta. I feel burnt out on the game and don't want to keep playing. O non lo so. Sembra carino, onestamente. Sembra carino. Non credo che lo comprerò. Però non sembra un brutto gioco. Slay the Spire... Per chi ha giocato Slay the Spire, mi sembra molto simile alla fine. Comprerò una componente GDR in più. Mentre Slay the Spire è tutto incentrato sul combattimento, sulle carte. Questo qua sembra avere una componente GDR di interazione con i personaggi del mondo. Così sembra. Quindi boh, chi lo sa. Eh, PES. No, non PES. Smash? Next! Next c'è questo gioco che è Going Medieval. Mi è stato consigliato a Steam. Credo che sia un simulatore di colonie. Quindi sì, è un gestionale. Siccome non ce ne sono stati abbastanza il mese scorso, è meglio cagare fuori altri gestionali. No, magari è bello. Eh, magari è bello. Non sto dicendo che sia brutto. Le recensioni sono molto positive al momento. Con il 93%, eh. Quindi quasi estremamente positive. Vediamo. Iniziamo a leggere... Iniziamo dalla recensione. Rimworld in 3D. We can't ask for more. If you can implement a COPS... Non ho mai giocato a Rimworld. So cos'è, ma non ho mai giocato. I'm in love with it. Add anything you want and mod support. Much love. Gioco divertentissimo e con un grande potenziale. Già adesso ti incolla lo schermo per ore e ore. Mi piacerebbe una mappa più grande o un albero delle tecnologie più lungo? Ma già così vale gli euro spesi. Quanto costa? È già uscito anche questo. È il primo giugno. Quanto costa? 20 euro. O 21 con questo DLC. Vediamo. Vediamo il trailer. Sperando che facciamo vedere dei gameplay. Ah, è piazza, piazza. È visivamente un po' bruttivo, però. E poi non è vero. Non è vero che è bruttino. Ha il suo stile, diciamo. Sembra un gestionale, alla fine. Un gestionale strategico. E poi il gestionale è... Chiaramente uno strategico. Oh, mio Dio! Andiamo in Medieval! Ho l'impressione che la mappa, però, sia veramente piccolina. Cioè, nel senso, non puoi esplorare... Non c'è molta esplorazione. C'è solo costruzione e gestione, credo. Oh, però è molto... Oh, mio Dio! È molto verticale. È molto. È verticale. Oh, questo fa già vedere qualcosa di più. Quello di prima era tipo la presentazione... Sommaria del gioco, può far vedere... In realtà anche questo, però fa vedere altri aspetti. Cioè, il clima, gli eventi atmosferici. Penso, io ero villager's needs. Oh, mio Dio! No, il gestionale io non ce lo faccio. Ah, però... Però questo proprio non mi interessa. Cioè, proprio non mi interessa nemmeno provarlo. Quindi... Pass, nel mio caso. Sembra carino. Sembra molto carino, però... Pass. Next. Un gioco di Warhammer 40.000. Sono certo che sia stupendissimo, come tutti gli altri giochi di Warhammer. Vero Games Workshop. Si potrà che danno la licenza a chiunque. Però costoro sono quelli che hanno fatto... Babbabà, i developer sono... L'Istreum On Studios. Che hanno fatto i Divine Cybermancy. Che è un gioco molto, 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 molto particolare. È un GDR, però... Con tanta... Molto depth. Ha molto depth. Aspetta un attimo, con una parte... Scusate. Ha molto depth. Ha, però è proprio di nicchia. È tanto di nicchia quel gioco. Questo qua, ho visto alcuni trailer. Sembra Doom. Sembra Doom, però, nel mondo di Warhammer. Ho anche letto delle recensioni. E, infatti, per lo più positiva, le recensioni dicono che è super janky. Nel senso, è carino, però ha tanti problemi. Tipo l'IA che sminchia. Personaggi che rimangono bloccati. Great game so far. Fast and entertaining. Ti, ma non fatevi vedere solo le recensioni positive. Voglio tutte le recensioni. E non nella mia lingua. Steam. Do you like the game? Yes. Do I recommend it? Not at its current state. The devs need to change a couple of things before the game can be fully enjoyed. Sound mixing? Ah, giusto, anche i suoni e i problemi. Certe volte ci sono le voci che sono... Ci sono quelli che parlano così, così si capisce un cazzo. E ci sono volte invece che no, lì si capisce. The Plasma Guard rocket launcher spam on side mission. Supposto a BOP in 40k. But currently they are just broken by being full auto. These weapons just melt you in the amount that spawn... Boh, questo ha un livello di difficoltà, non so. Infinite respawning of enemies. Ah, i nemici continuano a respawnare, no? Questa è una cosa che non mi piacerebbe. Remove the ghosting effect. I'm viewing weapons and on some game geometry. Nils the Warhammer 40k aesthetic. And the devs clearly know what makes the universe tick. Perché fra l'altro AI ricorda molto Warhammer. Proprio la scala delle mappe del gioco ricorda Warhammer. Però nel futuro... Che poi Warhammer è nel futuro. Oh eh! Comunque. Questo qua non lo consiglia a quanto pare. Poi c'è gente che lo consiglia. Ho sentito che ha problemi. Però guardiamo comunque il trailer che non ho mai visto. Ma questa canzone non c'entra molto con Warhammer. Warhammer. Necromunda is the greatest hive world in all of the Imperium. Visivamente sembra carino. With cities that rise from the ash wastes. Like sheer mountain peaks. Chaos. Chaos incoming. C'è il tamarro del protagonista. Hired guns. Navigate the ocean of crime and corruption. To balance this bloody ecosystem. Ah un altro problema che ho sentito è che i nemici, quelli più grossi, sono super jenky. Nel senso si muovono in modo strano. Si muovono male. Le animazioni fanno un po' scagazzare. Dei nemici grossi intendo eh. Boh non so potrei provarlo. Potrei provarlo anche perché a me Warhammer 40.000 interessa. Perché poi non so certo che... Beh sì essendo unive city è in 40.000 no? Non è in Warhammer fantasy. Credo che sia 40.000. Comunque boh... Lo provo. Penso di provarlo. Magari non in stream. Solo giusto per vedere com'è, se è carino o meno. Il problema è che la maggior parte delle volte i giochi su Warhammer fan cagare. Quindi per adesso si... Smasherino forse. Forse. Vediamo. Oh no. Perché ogni mese ci deve essere... Perché ogni mese ci deve essere un gioco con i Furry. Oco Life. No please. No please. Basta Furry. Basta Furry vi prego. Per lo più positivo cosa dicono. Un gioco, un sandbox, un boh. Non ci ho capito molto. Nel senso che a parte darci un'ascia dopo 5 minuti di gioco per poter iniziare a tagliare gli alberi. Quello che c'è da fare nel gioco è molto fumoso. Blaze it boy. Non si capisce che obiettivo ci sia. Una strada da intraprendere. Boh. Ripeto. Boh. Ok. È chiara questa recensione. Animal Crossing. A proda su PC. Ok. Sì. Mi ricordavo molto. Appena ho visto quei cosi ho detto... Che è Animal Crossing? E temo che sia Animal Crossing. Guardate. Guardiamo il trailer in veloce ma non mi interessa. Se è uno di quei sandbox in stile Animal Crossing super pass. Poi c'è gente a cui piace. Sono molto chill come giochi questi. Però nel mio caso è pass. Pass. È proprio Animal Crossing. Oh no le bombe perché? Ti prego fate esplodere la città. Ma insomma puoi disegnare a quanto pare sulle panchine. Poi mi immagino anche certi vestiti. Immagino eh. Broccolife. More like Broccolife. Pass. Che è sta cosa? Che è sta cosa con questi disegni molto... Avant-garde. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio mi sta ispirando molto eh. Solo dalle immagini. Recessioni non ce ne sono. Ah aspettate però. Questo esce il 3 giugno. Quindi... Eh no dovrebbe essere uscito ieri. Oh. New York City. 1997. Mi ricorda World of Horror per adesso. I put the building entrance. Yes no. Credo che sia in stile World of Horror. Proprio molto simile. Magari sono le stesse idee. Perché lo stile è quello. Però che sembra carino. World of Horror. Forse perché mi aspettavo di più. Però non mi è piaciuto così tanto. È carino. Per essere un gioco basato sul testo. Sulle immagini che sono molto belle. Però non mi è piaciuto tantissimo. Su quello stile di House of Many Doors mi è piaciuto molto di più. Mi sono i dev. Vabbè dai. Dal trailer si capisce cos'è. Non capisco cos'è. Sono sci. Sono sci. Cos'è che hanno fatto poi? Rim 9000. No loro non sono gli stessi developer. Boh sembra molto particolare. Finirà come World of Horror. E cioè che dico. Oh bellissimo. E poi invece magari è un gioco così così. Ah è positiva. Positiva. World of Horror è estremamente positivo. Quindi non è un buon segno che sia positivo. I've seen footage as they know that. Incredible. I have no idea. Know that to the core. See you all in 3 years. What? Cosa sta succedendo anche le recensioni di sto gioco? The first 15 minutes of critters for sale. Proves that video games can be whatever the hell you want them to be. Is good minchia. Youp. Very sexy game. Non lo so. Ehm. Per quanto mi ispiri molto a livello visivo. Però sono quasi certo finirà come World of Horror. Quindi pass. Per adesso pass. Per adesso. Ah shit here we go again. The magnificent truffle pigs. Isn't it amazing up there? Oh. No. Hold on. Carino? I'm beeping. Sembra carino. Everybody's going to the rapture. Non ci ho mai giocato. So cos'è ma non ci ho mai giocato. E a quanto pare è carino ma non è così bello come inizialmente si. Game about digging. You're not going to believe this. I'm finding something. Oh no. Unexpected. No please. Quando i giochi vengono ti dicono è un gioco in cui devi far cose per trovare cose. E tu dici what? Are we going to pretend nothing's happened? Cos'è un nuovo Everybody's going to the rapture? Mi ispira molto. È uscito ieri. Recensione nella media. Non mi ispira. Proprio il trailer non fa vedere niente. English version. The game concept is fine but it continues useless chit-chatting that blocks the gameplay make the game very little enjoyable. L'Italia verso che ruttura di coglioni quanto cazzo parlano. Nice. Questo è chiaro. Beautiful game with captivating voice performances for fans of Firewatch and everybody's going to the rapture. Pass. 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 Non mi interessa. Eeeh sniper ghost e minchia vediamo. Non ho mai giocato a uno sniper ghost. Quello del cicchino no? Che spara ai testicoli della gente se non sbaglio. E li fai esplodere proprio li vedi. Lo vedi. Raven dai ma che cazzo nome più edgy no ne? Un nome più edgy no? Raven. Madonna. Con un'array of pistols, assault rifles and s**t. Tech execution. Then there's a variety of gadgets and explosives on offer. To suit all destructive inclinations. Che immagino che sia uno stealth game. Uno stealth game a missioni. Sembra essere. Non lo so, non so molto da questi giochi. Soprattutto ultimamente. Eeeh. Vediamo quando è uscito. È uscito. È uscito oggi. Ci sono già recensioni. Quindi i curatori... Oh, vediamo. Vabbè che i curatori sono affidabili quanto... Un geranio, un gabbo di geranio nel deretano. Quindi non lasciamo perdere i curatori. Vediamo cosa si dice nell'app della comunità. Fra le discussioni. Buonestamente non credo mi interessi. In Starlieren, quando questo game unlocks? Ok, niente. Airstrike o Airstrike support? Countdown web page for download. Question arises. Questions arises. Play as Raven. Contract sniper assassin. As you take out the series of targets across a cinematic single player campaign. When the single player campaign is over, can we keep playing? Because there will be game generated things for us to do. Their play value comes from attempting various challenges and trying different approaches and weapons. Quindi sì, è uno stealth a missioni, con diversi approcci alle missioni. Beh, pass. Pass, sono già passato all'altro, però pass. Non mi interessa. Altri furri. Ci sono altri furri. Vabbè, vediamo. Eggnath e Raw Fury. I sviluppatori sono Eggnath e l'editore Raw Fury. Però può sembrare carino. Da quest'immagine, prima di vedere sta immagine, non sapevo però. Backbone. È un'avventura gioco di ruolo poliziesco post-noir. Invento il procione investigatore prima. Mi piacciono i procioni. Powered Lothor. Interroga un pittoresco cast di personaggi, raccoglie prove ed esplora una Vancouver distopica abitata da animali. Andiamo. Andiamo un po' il trailer. Va là. Va là, Gianni. Ah, pensavo si stesse versando il vino in testa. Oh, guardate com'è bello, però. Che contestiloso. Oh, carino. Da vedere, è molto bello. Peccato che c'è pieno di furri. Oh, sembra essere molto dark. Furri dark. Che è il miglior tipo di dark. Quali sono sti rape? È così carina la canzone. Sbagliato a bixare. Oh my god, una spada. Boh. Oh, ok. Ehm. Oh. Andiamo? Eggnut. Vediamo cosa hanno fatto questi Eggnut. Backbone. Ehm. Sembra molto carino. Ha molto stile, ha molto carattere questo gioco. Quando è che esce? Esatto, stavo pensando proprio a Black Sad. Anche questo è un investigativo con il protagonista di Furri. Però questo mi piace molto di più. Black Sad no molto. Black Sad credo che sia anche un po' semicomico, forse. Non lo so, non l'ho giocato. Però mi dà quell'idea. Questo qua invece sembra essere proprio dark. L'8 giugno. Boh, non lo so. Sembra carino. Mescino, piccolino, piccolino. Come un furettino. Chivalry 2. Ebbensì, questo qua un po' mi interessa, eh. Non ho mai giocato il primo di Chivalry. Oh, Chivalry, no? Non è Chivalry. Chivalry. Cavalleria, insomma. Il fatto è che dipende molto dalla quantità di giocatori, immagino. Anche se credo che nel primo ci sia... O almeno ci fosse tanta gente. Ci sia stata tanta gente. Vediamo cosa succede nel 2. Non ho capito che tipo di gioco sia, eh. Perché ho visto un gameplay, sembrava tipo un GDR. Poi però sembra... Eh, come si chiama? Quell'altro gioco... Mordeaux. Sembra Mordeaux. Quindi buono. Non so proprio... Non so bene cosa sia. Eh, il combattimento è quello. Play Mordeaux. Combat Basics. O 5 minuti, è la madonna. Combos, overhead, slash, bla bla bla. Oh, la scala. La scala delle battaglie è molto bella, eh. Nel senso, c'è tanta gente da uccidere o da cui farsi uccidere. Non prendi il tuo crosshair a un opponent, ma invece... Torni le piazze durante l'attacco per arrivare il tuo strike as early as possible. Torni a parte per tirare il tuo opponent. Cioè, ci sono tecniche segrete da apprendere, a quanto pare. Ok, immagino che abbia fatto una battuta, che ci siamo persi, purtroppo. C'è molto depth nel combattimento, a quanto pare. Perché tipo questo, quando blocchi e fai un attacco nel modo che ha spiegato prima, fai una riposte che blocca gli attacchi in arrivo e in più ti consente di attaccare. Mi chiedo se l'avversario possa bloccare la risposta e fare una risposta a sua volta, nel senso back and forth. Visto, ci sono proprio diverse tecniche. Sembra abbastanza deep come combattimento. Ora esce il... 35 euro non è nemmeno prezzo pieno. L'8 giugno... L'8 giugno? Ma come l'8 giugno? Tra 4 giorni. So cosa prendere, allora mi sa. No, no, questo lo voglio provare, sicuramente. Non so quanto lo giocherò. Non so, non so quanto sia interessante da poterlo giocare per diverso tempo. Però sembra molto carino. Spero che ci sia la chat vocale in game con il VoIP, così posso urlare alla carica e morire subito dopo. Comunque, boh, questo qua è Smash. Nel mio caso mi interessa molto. E penso di comprarlo appena avrò finito il video. Non so, poi nemmeno uscisse l'8. Io penso uscisse a fine mese. Invece, a quanto pare, l'8 esce. Magari è l'early access, l'8. Vabbè, quello che è. Comunque, Smash. Yes. Ninja Gaiden. Master Collection. Edginess. Ninja. Giochi stronzi. Stronzi in senso, vorrei dire positivo, ma nemmeno tanto, perché ti girano i coglioni con dei giochi. Sono divertenti, ma ti girano i maroni, credo. Dico credo perché non ho mai giocato un Ninja Gaiden. Ho troppa paura di giocarli. È molto action. C'è molta azione. C'è molta... C'è molte cose ninja. C'è molta Aginess, perché qua c'è tipo un lago di sangue. Vabbè, però, è tipo la Master Collection. Sono tutti i giochi di Ninja Gaiden, immagino. Vediamo. La Koi Tecmo non è che mi fidi molto, eh. Koi Tecmo è un po'... Un po' così. Vabbè, fuori dai maroni trailer. Ma se ne andiamo avanti, vediamo cosa succede qui. Andiamo a cosa succede verso la fine. Altri combattimenti. Qua cosa c'è? Storia. No, combattimenti. Altri combattimenti. Oh, ma sbaglio era la Statua della Libertà. Boh, sembra molto tamarro. Ripeto, non avendo mai giocato un Ninja Gaiden, non so esattamente cosa sia. The Ninja Gaiden series is respected and beloved across the entire gaming world, and has sold 6.8 million units in total. In this collection, the three titles from the series, which are included are Ninja Gaiden Sigma, del 2007, Ninja Gaiden Sigma 2, 2009, e Ninja Gaiden 3, Razor's Edge, 2012. Quindi sono tre giochi di Ninja Gaiden, inclusi in uno, vabbè, chi se ne fotte. Cioè, nel senso, ok, sembra carino, magari lo provo anche, però per adesso è... È pass. Per me è pass. È pass. Però adesso... Pass. Yes. Yes. No, cos'è sto schifo? Non è il trailer giusto. Sbagliato. No, è il trailer bello, cosa è successo? Vabbè, insomma, comunque, vabbè, chi non sa di chi mi segue, chi non sa cos'è questo gioco, è Guilty Gear Strive, è Guilty Gear, però è Strive, è bello, ci sono personaggi edgy, ci sono canzoni edgy, è tutto molto edgy, c'è una storia non giocabile, a parte i capitoli dei personaggi. Perché non lo sapesse, la storia di Guilty Gear, anche nella modalità storia, tu te la guardi, a meno che non abbiano cambiato qualcosa in questo. Nei gg precedenti la storia tu te la dovevi guardare, non è che potevi giocarla, a parte gli episodi singoli dei personaggi. Boh, chissà se è cambiato questa volta, mi interessa poco, preferirei guardarmela la storia più che giocarla a sto punto. Però, ciò che mi interessa è l'online, nuovo netcode con rollback, che sembra essere ottimo. Il gioco, a quanto pare, hanno appena rilasciato su Twitter una news in cui han detto che han cambiato il movimento, dopo l'ultima beta e l'evento che c'è stato in Inghilterra, il Kumite, hanno cambiato alcune cose sul movimento, non si sa bene ancora cosa. Han detto che han cambiato anche qualcosa sul Gatling, che per chi non lo sapesse è il sistema di combo di Guilty Gear. Han cambiato qualcosa, vedremo all'uscita, io lo sto aspettando da due mesi, l'hanno posticipato, dopo averlo posticipato di quasi un anno, l'hanno posticipato ancora di due mesi. Quindi, finalmente siamo arrivati alla data di uscita, che è l'11 giugno, per noi poveracci su PC, visto che su PlayStation, chi si è preso le edizioni, quelle, le deluxe, e ce n'è anche un'altra, la gioca dall'otto, pensa te che mafia. Però, vabbè, lo aspetteremo fino all'11, non vedo l'ora di giocarlo. Non mi voglio creare troppo hype, perché magari poi, ora Tekken è il mio fighting game preferito, vorrei che Guilty Gear diventasse il nuovo fighting game preferito. Ma è un 2D, poi han cambiato molto rispetto ai GG precedenti, che è una cosa positiva, ma anche una cosa negativa per alcuni. Vedremo com'è, se sarà così bene, sennò chi se ne frega. Io voglio giocarlo, voglio divertirmi, e quando mi sarò rotto i coglioni lo abbandonerò. Quindi, in attenzione, smash, super smash, extra smash, cheap smash. Comunque, mi sono accorto adesso che non ho mai allargato la finestra dei trailer, vabbè, chi se ne fotte. Questo è Rogue Book. Ah, un altro gioco di K, sembra un GDR. Mirko, lo stile, mi sa che so chi l'ha fatto, sto gioco. Ok, non lo sapevo che si chiamassero, no, ok. Però ha uno stile molto simile a quello, perché è anche quello di cui sto per parlare. Era un gioco a turni, un GDR a turni, come questo, però senza carte. Richard, c'è uno che si chiama Richard Garfield? Che ha fatto sto gioco? La Zagna! Ahah, vabbè. Poi un Ghetto's trailer, magari schippiamo qualcosina, eh. Questo, lo stile è molto simile. Sono sicuro che... Chi sa, sa di quale gioco sto parlando, perché lo stile delle battaglie è proprio uguale. È uguale. E le carte ricordano tantissimo quelle di Slade e Spar, però sono proprio lo stile uguale. Ah, gli hanno preso dai migliori, immagino. Però ho letto che... Giochi simili? Armello? Forse per la navigazione della mappa. Ok, random. PVP? L'estruzione di mazzi in stile Rogue, ok. Avventura. No, mi sa che non è PVP. Ma no, ma che caldo. Ho fatto una cazza da mettere sto costume. Vabbè, insomma, è un GDR. È un GDR in cui costruisci mazzi di carte, a quanto parlo c'è un sistema di leveling. La durata della storia dipende solo da te. Non mi piace quando si dice... Si dice una cosa... Si dico cose simili. Ma le carte, quella roba là, era uguale a Hearthstone. Vabbè, comunque, sembra Slade e Spire, unito alla mappa di Armello, unito allo stile di Hearthstone. Eh, non lo so, PS. Mi interessa molto. Sembra carino, non... Che poi non lo so. Non so se... Lo stile grafico è carino. La parte artistica, diciamo. Pro bono, PS. Mi sa PS. 17 giugno. PS. Dungeons & Dragons? Dark Alliance? Che è sta roba? Coop, azione? Coop, azione Dungeons & Dragons, GDR 3D. Nani? Vediamo il trailer. Non so proprio cosa sia. Mi piacerà molto con l'animazione. Ma dai, cos'è? Siamo un po' legnosino. Non so, sembra un po'... Un po' legnoso il gioco. Non sembra molto fluido il combattimento. Cos'è un misto di Vermintide? Però è tipo Vermintide, unito a Godfall. Il combattimento, ecco, mi ricorda molto Godfall. E non è una cosa buona, eh. Anzi, è pessima, direi. Le animazioni mi ricordano tanto quali Godfall. Dungeons & Dragons? Dark Alliance, c'è. Dark Alliance. Furku Games? Cosa hanno fatto? Livelock. Ah no, Turku Games. Non Turku Games. Hanno fatto solo questo livelock. Sembra essere proprio come Godfall. Anche con l'equipaggiamento che devi droppare. È tipo Vermintide e Godfall insieme. Walsan? Ah, quindi è un action RPG? È un action RPG in terza persona, però... Boh, il combattimento mi sembra molto legnoso. Se uno è un fan di Dungeons & Dragons, immagino che possa interessarli. Io non lo sono mai stato. Quindi, pass! Alex Kidd in Miracle World. Come si chiama il tipo? Fuck, l'ho dimenticato. Super Steve. Guseca? Oh my goodness. Ciocchina? Oh fuck. Ma è lui? È Parply? Oh mio Dio, i miei nemici preferiti. Janken. Janken. Ma... Ah, veramente? Janken porn. Sesso carta forbice. Quindi è un gioco vecchio. È tipo una remaster di un gioco vecchio. Infatti l'avevo già sentito, eh. Questo è il nome del protagonista. Alex Kidd. No, non credo che mi interessi. Sembra un platformer. Molto simpatico, molto carino. Platform 2D, azione, retro, platform. Non lo so. Considerate che... Gets of Uma The End... Non dico che mi abbia preso, però è molto carino. È un gioco che si basa quasi completamente sul suo predecessore di 300.000 anni fa. È molto carino, quindi anche questo magari non farà schifo. Però boh, non mi interessa molto. Non mi interessa. Pess. Pess. Se vi piace lo stile, provatelo. A me non mi interessa. Pess. Legend of Mana HD Remastered is coming to Steam. It's not Trials of Mana style remake, but it's good news. Interesserà qualcuno, immagino. Legend of Mana. Remember me. Non mi interessa, sorry. Proprio non mi interessa. Ehi bimbo, ti piacciono gli anime? Sì signore, mi piace, mi piace Naruto. Ehi bimbo, ti piacciono i protagonisti Eji e i nemici Eji degli anime? Eh sì, Naruto è molto Eji, però è un po' anche un pirla, è un po' anche un rompicoglioni onestamente, perché Sasuke è il miglior amico, non si sono mai cagati, non ho mai capito perché. Naruto è così fissato con Sasuke, però vabbè, in più mi sta sulle palle. Comunque, Scarlet Nexus, Bandai Namco è anche il developer, non solo l'editore, non solo il publisher, è anche il developer. Allora, io non avevo molte aspettative per questo gioco, anzi, penso sarebbe stato un altro Code Vein, e invece ho visto alcuni combattimenti, sembra molto più, bam bam bam, molto più azione. Mentre Code Vein era proprio un Souls-like, è anche un po' orribile, si basava sulle tette Code Vein, c'erano tette, e basta, non c'era molto altro. Cosa qua? Boh, non lo so. Sembra molto Eji, eh. È anche molto simile a Code Vein. O sembra molto simile, non è molto simile. Come ho detto, il combattimento sembra essere un po' più veloce. Sembra più un action. Oh, my God! Insomma, qua si vede il trailer della storia, immagino. Non fanno vedere molto i gameplay, dovrebbero puntare a far vedere i... Non tanto la storia, o meglio, fare un altro trailer in cui fanno vedere il combattimento, perché ho visto dei gameplay che erano molto carini. Scarlet Nexus. 25 giugno esce. Vediamo, vediamo se trova un gameplay interessante. Scarlet Nexus Gameplay. Ah, c'è anche la demo. Fra l'altro, se lo volete provare, c'è la demo, a quanto pare. Non su PC, credo. Credo, eh, non ho... non ci ho fatto caso. Vediamo, proviamo a vedere su Steam. Scarlet Nexus... Ah, fuck! Scorn! Quando cazzo esce Scorn? Scarlet Nexus... 50 euro. Prezzo pieno. No, mi sa che non c'è... non c'è la... la demo su PC, eh. Grazie mille per non darci le demo. New gameplay today, di quando è? Tre settimane fa? Cinque giorni fa? No. Guardiamo questo. Ah, quindi ci sono... puoi utilizzare diversi protagonisti, con le proprie skill e abilità. In addition to that, you're also able to seamlessly toss anything that's not bolted down at their target for big damage. The catch is that using your psychokinesis takes a great deal of mental power, and the only way to restore that power quickly is by getting back in the thick of it and landing regular attacks. So, you're encouraged to make... Non so, i nemici hanno molto... sono artisticamente molto carini, perlomeno sembrano. Però il gioco sembra... il classico action. Che vorrebbe essere Devil May Cry, ma... ma non riesce a essere niente alla fine. E poi la... è sviluppato dalla banda in Namco, non... Siamo onesti, se non fare tech e ne basta, quelli della banda in Namco, non sanno fare altri giochi. Che giochi hanno fatto ultimamente, quelli della banda in Namco? Vediamo. Developed games. Tales, vabbè, ma no, così. Dragon Ball Fighter, è un altro fighting game. Carino, eh, carino. Dark Souls. Ehi, che schifo Dark Souls! Jump Force! Nice. Naruto Ship, Little Nightmares, davvero? L'ha sviluppato dalla banda in Namco, Little Nightmares? Oh, ehi, c'è speranza, forse. Però Little Nightmares è proprio tutto un altro stile, è un horror puzzle, platformer. C'entra niente. Tales of Arise. Oh no, 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 un altro... Sono queste immagini. No, no, please. No, basta, banda in Namco, smettila. Smettila! Concentrati su Tekken, metti un anti-cheat. Ace Combat 7, che a quanto pare è carino. Allora, non voglio distruggere i sogni di coloro che aspettano Scarlet Nexus, ma a me non interessa. Temo che sarà come per Biomutant, cioè molto generico, molto... Magari carino inizialmente, ma piano piano capisci che non c'è sostanza. E ti rompio poi i coglioni. Io ho visto Code Vein. Faceva schifo Code Vein. Era corribile. Non odiatemi, ma così... Vabbè, dai, pass. È tutto per sto mese. Erano i giochi importanti del mese. Come per il mese scorso, immagino che usciranno altri giochi, magari meno conosciuti o completamente sconosciuti. Magari bellissimi, però... Di cui, però, non ho potuto trovare alcuna notizia. C'è poca roba che mi interessa. Chivari e Guilty Gear... Soprattutto Guilty Gear. E poi qualcos'altro, non ricordo. Però Chivari e Guilty Gear a questo mese sembrano essere i giochi più interessanti. Niente, dai, se il video vi è interessato, lasciate un like, che aiuta molto a far crescere il canale. Che cazzo è successo qua? Ho provato a staccare qua sto schifo, ma è tornato indietro. Lasciate un like, magari seguitemi su Twitch, che streamo quasi tutte le sere, tranne il sabato. Chiaramente Guilty Gear lo porterò in stream. Probabilmente anche Chivari. Fino all'uscita di Guilty Gear andremo avanti su Tekken, con il TPC o con Match fra di noi, quello che è. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo alla prossima. See ya!